Mailboxes a Cava dei Tirreni, unica sede in via Vittorio Veneto 19, soddisfa tutte le tue esigenze. La scorsa settimana è stata piena di attività con il CSI Cava. Si è iniziato a Dupino con i festeggiamenti in onore di Sant'Anna, evento che ha visto la partecipazione di circa 50 ragazzi in attività ludico-motorie, con il coinvolgimento sia degli operatori del CSI Cava, sia del gruppo animatore parrocchiale della frazione. L'attività è proseguita venerdì con la mega festa dei ragazzi partecipanti al centro estivo della Lito Dora, società affiliata al CSI Cava, che ha proposto un pomeriggio di giochi, attività teatrale e animazione, con un unico denominatore comune, la pace. Alla manifestazione sono intervenute diverse autorità, tra cui l'assessore alla pubblica istruzione di Cava, Lorena Giuliano, il consigliere comunale Giuliano Galdo e il presidente del CSI Cava, Giovanni Scarlino, tutti nella duplice veste di autorità, ma anche di genitori. Infine sabato, in località Sant'Anna, è stato allistito un vero e proprio villaggio dello sport, dove si sono recati circa un centinaio di ragazzi, tutti contraddistinti dalla splendida maglia verde-gialla, i colori della frazione, donata da uno sponsor. Il CSI ringrazia in particolare il comitato Festa e il parroco Mimmo Spatuzzi per aver voluto di nuovo il CSI Cava ad animare la giornata conclusiva dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna. Così Pasquale Scarlino, dirigente CSI. Una ricca attività impostata sul discorso della pace, che veramente ha avuto un successo oltremisura. Ma una cosa che, se posso, ci ha rallegrato e mi ha rallegrato in modo particolare, durante una manifestazione, durante una gara, avevamo dei percorsi di atletica, c'era una gara tra le due compagini fatte di ragazze. A un certo punto una ragazza, che stava per cercare di vincere la sua manche, ha visto che l'altra ragazza è caduta, è scivolata, ha aspettato la ragazza che si è incidentata. Questa per noi è stata veramente Veronica, quindi veramente, grazie a questo senso applaudito da tutti quanti, sa significare che anche i ragazzi, non soltanto i grandi, fanno questi gesti, ma anche i ragazzi, anzi soprattutto i ragazzi, hanno questi valori che ci rallegorano a noi che organizziamo. Prossimo appuntamento per voi è il 12 a Santa Lucia. Cosa farete? Santa Lucia sarà una giornata diversa, perché ogni anno apriamo i festeggiamenti civili e non religiosi, perché quelli già da tempo si sono avviati, apriamo i festeggiamenti alla frazione Santa Lucia. Sarà una serata di danza sportiva, ci saranno diverse scuole di danza di cava che si andranno a cimentare nella location molto bella dell'oratorio di Santa Lucia, dove c'è spazio a Iosa, quindi aspettiamo tutte le scuole di danza sportiva di Cava dei Tirreni a potersi avvalere di questa bella iniziativa e quindi anche un grazie a padre Beniamino che anche quest'anno ha voluto il centro sportivo a collaborare per questa manifestazione.